Il Figline tiene fede al pronostico della vigilia e si conferma squadra, riva l'azione del girone, si ferma in Valdardo, una serie positiva del Sansepolcro. La cronaca si apre subito al settimo con la bella incursione di Farimarini, il traversone controllato dai difensori giallo-blu senza difficoltà. Ancora Sansepolcro nel decimo, questa volta dalla Bagnarina, la palla è buona per Della Spoletina che impatta la sfera ma la traiettoria finisce sopra il montante. Poi all'improvviso arriva il vantaggio dei padroni di casa, Sesti è molto bravo a chiudere una triangolazione con Bruni, il tiro si inzacca all'incrocio. Niente da fare per Distasio, poco prima della mezz'ora si rifà a vedere il Sansepolcro. L'azione è promossa da Ferri Marini ma il baby Pasquali al momento della battuta non colpisce bene alla difesa se la cava in corner. Il taccuino annota al trentatresimo una conclusione dell'intraprendente della Spoletina, compagnini che controlla. Il primo tempo si chiude con il vantaggio minimo del Figline e la ripresa si apre subito con il raddoppio dei padroni di casa. La palla ferma, la battuta di Sesti sul secondo palo è frutto di uno schema. L'inserimento di Sabatini è letale per l'estremo difensore Biturgenze. 2-0 per i gialloblu, padroni di casa pericolosi al decimo sempre con Sabatini che di testa mette fuori sugli sviluppi di un corner. Il Figline sfiora il tris al sedicesimo, spettacolare ripartenza di Cavaciocchi. La palla buona alla fine per Bruni che è chiuso da Distasio alla perfezione nella conclusione. Tronconi gioca la carta Zellidi al ventunesimo, quest'ultimo impegna Distasio in una parata non facile. L'ultima occasione ancora per il Figline, stavolta è Buonavita che non concretizza una indecisione della difesa bianconera. A Tepertucoli il portiere spedisce al lato ma il risultato non sarà mai in discussione al del buffa. La festa è solo gialloblu. Dopo la bella vittoria nel derby a Montevarchi c'era bisogno di continuità di risultati e oggi con il Sansepolcro il Figline ha fatto un'altra volta una gran bella partita e terminato il risultato 2-0. Sì, la vittoria nel derby nessuno ce la levava, quella è storia, però per dare continuità ai vantaggi che ci aveva dato in classifica bisognava anche oggi dare continuità di risultati. E quindi questo era il nostro obiettivo. Il Sansepolcro avevamo visto che era molto bravo a pressare la palla, quindi oggi non volevamo la palla. Volevamo fare un'ottima fase difensiva come abbiamo fatto e ripartire perché noi siamo molto bravi nelle ripartenze, quindi nelle transizioni offensive abbiamo fatto diversi gol. Quindi un po' l'obiettivo era questo, non cercare una fase offensiva in cui avevi te molto la palla, anche perché loro non ti davano tempo di fare questo. Perché come ho detto prima sono molto bravi a pressare il pallone, quindi l'idea era proprio di lasciare la palla a loro e di farli venire, di farli aprire e poi di andargli a fare le mani in contropiede. Abbiamo avuto un po' di difficoltà alla fine del primo tempo, ma poi abbiamo riaggiustato le pressioni e nel secondo tempo il Filini ha fatto un secondo tempo perfetto, dal gol del 2-0 alla fase difensiva come si era preparata. Molto bene, molto contento. Sì, sì, effettivamente la prima frazione è un po' più complicata, nonostante che il Filini avesse il vantaggio della rete, Sansepolco è stato pericoloso in due o tre circostanze. Però questa volta nella ripresa il Filini ha raddoppiato e ha giocato molto meglio. La prossima settimana, mister, andiamo a Grosseto. La prossima settimana andiamo a Grosseto, un bellissimo stadio, una grande squadra e quindi è tutto l'entusiasmo possibile per affrontare questa gara. La squadra sta arrivando all'obiettivo stagionale, 36 punti, adesso manca poco alla salvezza. Sì, sì, noi siamo orientati sul nostro obiettivo, la testa è lì, lo sguardo è lì e ogni domenica vediamo di fare un passettino in avanti verso l'obiettivo. Dopo gara di Filini e Sansepolcro in compagnia del mister ospite Marco Bonura. Mister, Sansepolco veniva da nove risultati utili consecutivi, cinque vittorie e quest'oggi a Filini è venuta una sconfitta per 2-0. Abbiamo visto nel primo tempo una grande squadra che ha fatto diverse azioni, poteva andare in vantaggio, però poi è venuta la rete del Filini. Secondo lei? No, no, hai detto bene te. Purtroppo ai ragazzi avevo detto che incontravamo una squadra dove si difende e riparte, non dovevamo sbagliare le cose semplici, facili. Vedi il gol che abbiamo preso su una palla nostra, persa davanti al limite quasi dell'aria, dove loro sono bravi anche a recuperare queste palle sporche, così diciamo, a conquistare queste palle e ripartire. Per quello che riguarda lo sviluppo del primo tempo, poi abbiamo fatto bene perché noi abbiamo creato veramente 3-4 situazioni importanti, non siamo riusciti né a andare in vantaggio all'inizio né a pareggiarla. Dopo quello che è stata la squadra del secondo tempo, di stare in partita, abbiamo preso un gol su una posizione evitabile proprio, abbiamo preso un 2-0 che è una pala da ferma centrale, sul secondo palo solo. Quindi poi sul 2-0 chiaramente dopo l'inizio della partita è andata fuori le figline perché le caratteristiche poi dopo si sposano meglio nel risultato, era secondo i canoni della squadra di casa, diciamo, dove loro sono bravi dopo a difendersi, a ripartire, a prendere entusiasmo. Noi nel secondo tempo effettivamente poi siamo usciti un po' dalla partita, siamo andati in confusione, non abbiamo più cercato di manovrare e quindi dopo la partita nel secondo tempo abbiamo fatto un brutto secondo tempo. Ma ripeto, peccato per il primo tempo perché sicuramente non meritavamo andare sotto, ecco, quindi però onore al figline che dopo ha fatto la sua partita. Comunque sia, insomma, avete fatto un recupero straordinario, adesso siete in una posizione di classifica non proprio tranquilla, però ve la potete giocare? No, no, sicuramente sì, ragazzi sono stati bravi perché sono nove partite che comunque sia i tre dell'andata, delle ultime tre più le sei, però purtroppo quando sei final in corsa e quindi basta una partita due che se fai male ritorni nel mischione, quindi chiaramente non possiamo abbassare il caldo della concentrazione perché non ce lo possiamo permettere. Oggi diciamo è stato un passo falso, soprattutto nel secondo tempo, bisogna comunque alzare la testa, come detto te, siamo ancora lì e per giocarci la salvezza è quello che era l'obiettivo nostro, quindi considerando come eravamo due mesi fa e se guarda la classifica adesso comunque sia ci permette di stare ancora lì sul pezzo, luttare a testa alta senza grossi problemi, analizzando chiaramente la partita che chiaramente non dispiace quando perdi, però bisogna anche passare anche da questo tipo di partita. da questi tipo di risultati alle volte, quindi l'importante è alzare subito la testa e rimetterci in careggiata già la domenica prossima.